Benvenuti ragazzi e benvenuti al vostro nick di 07 ragazzi oggi siamo su sfida politica italiana un gioco davvero molto consigliato per i bambini come me perchè è bellissimo ragazzi perchè c'è la campagna c'è dopo vi spiegherò tutto ragazzi se ancora non l'avete fatto scrivetemi al mio canale e oggi vorrei salutare un mio amico che si chiama Christian e da tanto che non faccio video quindi li voglio fare per salutare i miei vecchi amici che non li incontro più perchè alle medie andiamo e quindi non ci incontriamo ragazzi però adesso andiamo a giocare la sfida politica italiana per questo video voglio 20 mi piace dacci 20 mi piace e iscrivetevi al canale andiamo a fare la campagna che l'ho già iniziata con con Berlusconi sì Berlusconi abbiamo vinto la prima partita non so come si chiama vabbè però andiamo a fare la prossima contro una femmina chi è vabbè speciale money ah no non è ancora iniziata money in faccia ammazza sta stupida signora sappiamo farti i maschi che cazzo fai ricarica ti mossa dai e ammazzano dai dai vattene a fanculo piglia piglia dei moni in faccia e ti è no non posso perdere ragazzi non posso perdere ah ragazzi scrivete nei commenti che gioco che vi porti fare video e abbiamo vinto con pochissimo di video tieni tieni di bastarda ci avevamo messo 58 secondi 58 secondi e 7 non so come si dicono vabbè che ce ne frega allora il prossimo il prossimo è non lo conosco dai 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 money dai via la stupartita oh volevi vai 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 tammazzo 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 sai tammazzo vai vai abbiamo vinto e stravinto ragazzi la vita è facile ah seguitemi anche su instagram che non ve l'avevo detto mi chiamo nicola punto j j no con solo la j j i la g lunga e il lunga adesso non fare contro non la conosco nessuno conosco soltanto questi due è un marocchino nicola seo what the fucking bro dai oh che cazzo fa questa becca dei money ti volevi no mi era parata e poi ammazzo la stastruzza e poi io viado il più vecchio dei dei politici il più vecchio Berlusconi oh brutta il mio occhio del cozzo oh doppia di verdone bupere va bene ragazzi per questo video è tutto lasciate come vi ho detto prima 20 mila eh sì 20 mi piace ragazzi per questo video è tutto ci ho messo un minuto e 4 secondi a sconfiggerla non fa niente se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale buu non mi si